Vincere potrebbe non bastare, perdere, ma a determinate condizioni sì. È il paradosso che accompagna il Foggia alla vigilia della trasferta di Teramo, dove domani alle 18.30 i rossoneri sfideranno il Monterosi nell'ultimo atto della stagione regolare. Un Foggia scivolato clamorosamente fuori dalla zona play-off dopo il derby perso a domicilio col Cerignola, che ha vanificato l'entusiasmante rimonta che da febbraio aveva visto Rizzo e Soci viaggiare a ritmo promozione diretta. Vincere, si diceva, sperando in un passo falso del Cerignola, perdere a patto che il Sorrento faccia identica cosa a Caserta e il Catania precipiti in zona play-out, liberando l'undicesimo slot per i play-off. Paradossi di questi ultimi complicati 90 minuti di una stagione che comunque finirà, sarà ricordata come tra le più travagliate della recente storia rossonera. Intanto a parlare Mirko Cudini, il tecnico finito sul banco degli imputati dopo il K.O. interno con l'audace Cerignola, ha detto la sua nell'immediata vigilia della trasferta sul campo di un Monterosi a caccia disperata di punti per spareggiare per la salvezza. Se dovesse esserci l'assegnazione oggi forse non sarei qua, me ne sarei già andato forse. Questa è la verità dei fatti. L'assegnazione non credo, delusione sì, dopo la mancata vittoria di sabato scorso, domenica scorsa. Però le partite vanno giocate, vanno giocate fino all'ultimo minuto perché tutte le squadre, salvo chi ha vinto il campionato, quindi la Juve Stabia, il Brindisi che è già retrocesso, il resto tutte si giocano qualcosa, quindi le partite vanno giocate, le possibilità, la carta dicono che sono poche, ma ne erano tante domenica scorsa, quindi l'abbiamo ridotta al minimo e quindi tocca a noi riprenderci se tutto va bene, quello che forse c'eravamo guadagnati fino a sabato. Possiamo giocare questa partita, questo è chiaro, con la redolina in mano. Questo non ce lo possiamo permettere anche perché non siamo capaci, non siamo capaci forse di giocare e quindi quando siamo bene e quando lo dimostriamo, quindi dobbiamo pensare a fare quello, altrimenti non ne veniamo fuori. Questo è quello che ho chiesto e chiederò ai miei ragazzi, di fare la partita come dobbiamo farla, con la mentalità giusta, con l'idea giusta di andare là perché incontriamo una squadra che obbligatoriamente loro forse hanno un solo risultato, è quello di vincere. Quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare di essere equilibrati e di saper fare quel tipo di partita per 95 minuti quelle che saranno, quindi questa è la cosa che mi preoccupa di più. Grazie.